sta iniziando alla camera l'iter parlamentare per la conversione in legge del decreto 73 il cosiddetto decreto sostegni bis pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 maggio scorso gli aspetti critici del provvedimento sono più di uno e di non semplice soluzione c'è per esempio il nodo del vincolo quinquennale che il decreto ha portato a tre anni ma che i sindacati vorrebbero vedere del tutto cancellato e c'è la disposizione del comma 1 dell'articolo 58 relativa alla previsione di programmare attività di recupero nel periodo dal primo settembre alla data di inizio delle elezioni anche questa norma non piace ai sindacati del comparto che parlano di invasione di campo su una materia squisitamente contrattuale e non mancano su questo le proteste sui social soprattutto dopo che è stato diffuso il testo della relazione tecnica del ministero dell'economia che prevede che le attività in questione debbano essere considerate del tutto ordinarie senza la possibilità di essere retribuite ma le difficoltà maggiori riguardano l'articolo 59 del decreto quelle cioè che hanno a che fare con le assunzioni da farsi per garantire l'avvio del prossimo anno scolastico e con lo svolgimento dei futuri concorsi ordinari e qui l'elenco delle critiche dei sindacati è davvero lungo si parte dalla misura che non consente ai docenti che non superano le prove di un concorso ordinario di partecipare al concorso successivo e poi c'è anche la richiesta di estendere il piano straordinario di assunzioni ai precari della seconda fascia delle gps per dare più forza alle critiche i sindacati del comparto hanno organizzato una manifestazione nazionale per il 9 giugno il dibattito interno è stato anche molto vivace qualcuno avrebbe voluto uno sciopero ma i tempi sono troppo stretti d'altronde c'è anche chi fa osservare che lo sciopero dell'8 giugno dello scorso anno fu un flop clamoroso non si arrivò neppure all'uno per cento un secondo flop sarebbe del tutto controproducente e quindi è meglio non provarci neppure per il momento presso la commissione bilancio della camera si sono svolte alcune audizioni che continueranno probabilmente per questa settimana e nella prossima poi dalla metà di giugno si entrerà nel vivo dell'esame del provvedimento che è bene ricordarlo contiene poco meno di 80 articoli tutti complessi ricchi di disposizioni e di previsioni di spesa la scuola insomma sarà uno dei tanti elementi dell'intero provvedimento intanto al ministero si sta lavorando per dare avvio alla procedura concorsuale finalizzata ad assumere più di 6.000 docenti delle discipline stem il decreto legge prevede infatti che le graduatorie per l'individuazione dei vincitori debbano essere pubblicate entro il 31 luglio quindi i tempi sono davvero strettissimi è vero che le prove saranno particolarmente semplificate ci sarà uno scritto con 50 domande a scelta multipla seguito da un orale ma due mesi sono davvero pochi e se si concluderà tutto nei tempi previsti potremo a buon diritto parlare di svolta epocale nelle procedure concorsuali il tema ovviamente è di grandissima attualità coinvolge interessa centinaia di migliaia di docenti e quindi su questo noi continueremo a tenervi informati seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci mandateci i vostri commenti le vostre lettere le vostre osservazioni ne daremo conto come di consueto www.tecnicadellascuola.it